La favola del costruendo dell'erigendo ospedale San Cataldo di Taranto continua, continua e continua. Ulteriore rinvio doveva essere consegnato il 10 agosto e d'incanto slittiamo al 31 luglio 2023, da agosto 2022 al luglio 2023. Ma questo giusto per fare un annuncio, per prendere altro tempo, perché non si capisce quanti sono stati i ritardi, su ritardi, su ritardi. E prima, porta almeno due anni, tre anni di ritardo. E prima era il Covid e poi la scusa che d'estate, guardate un po' che stronzata, scusatemi l'espressione, i lavori rallentano perché c'è il sole, batte forte e quindi gli operai non possono lavorare a pieno regime. Giustissimo, per l'amor di Dio, gli operai vanno salvaguardati. Ma non lo sapevate, scienziati della regione Puglia? Non lo sapevate che d'estate batte il sole? Eppure non siamo nel deserto del Sara? Avreste dovuto dare una tempistica, avreste dovuto annunciare dei tempi più lunghi. Invece no. L'importante per Emiliano e per il suo delfino Melucci è la politica degli annunci ad effetto. La stessissima cosa riguarda, possiamo paragonare la vicenda dell'ospedale San Cataldo con quella dello stadio. Annunciare, annunciare, annunciare tutti i plastici, progetti, conferenze stampa attraverso show mediatici e poi la realtà è che questo ospedale è prevista la sua realizzazione, il suo completamento nel 2023. Ma non sarà neanche nel 2023, perché intanto secondo me ci sarà ancora un anno, un anno e mezzo, due anni di ritardi. Ma come se ciò non bastasse? Poi lo devi attrezzare, hai solo la struttura muraria, devi avere i fondi che mancano per mettere la strumentistica, tutto il quanto serve a livello di strumentazione tecnica, sanitaria. E poi dovrai bandire i concorsi. Insomma, secondo me se tutto va bene ci vorranno almeno 5, 6, 7 anni, se tutto va bene. Per non parlare di un'altra assurdità, non è previsto il reparto di cardiochirurgia. Pensate un po', cardiochirurgia in una struttura pubblica non c'è. C'è la struttura convenzionata privata, la Villa Verde, massimo rispetto per questa struttura, meno male che c'è. Ma è assurdo che una struttura pubblica non abbia cardiochirurgia. Ma questa è tutta un'altra storia. Le favole di Emiliano e poi vorrei capire anche, c'è il commissario straordinario Pelillo. Ho chiesto un'intervista, non me la vuole rilasciare. Mi ha detto la segretaria che era un'intervista che non riguardava la sua competenza. Non ho capito bene perché, ma forse c'è stato un equivoco. Non mi interessa. Sta di fatto che vorrei capire da Pelillo qual è la sua funzione, visto che lui è un uomo che è un avvocato tributarista. E qui non stiamo parlando di materia tributaria, stiamo parlando al momento di problematiche di costruzione, problematiche edilizie. Massimo rispetto per Pelillo, ma Pelillo è un uomo di conti, è un uomo di tributi, non è un uomo di realizzazione di strutture murarie, e chiamiamole così, lato sensu intese. Quindi questa figura del commissario Pelillo, peraltro lautamente retribuito, in maniera lecita, ma lautamente retribuito, mi pare che siano 150 mila euro a semestre. Se non erro, ma vorrei capire qual è la sua funzione. Non penso che la mattina Pelillo venga con gli attrezzi del muratore, ma al di là della battuta, ecco, anche in questo senso non era necessario, massimo rispetto per Pelillo, ma non era necessario nominare una figura di un commissario straordinario. È stato fatto perché bisognava dare una sistemazione politica, perché sappiamo la politica come quella di Pelillo è una nomina politica, non certo tecnica. Ma la realtà è questa. Ospedale San Cataldo di Taranto, slittamento di un anno. Cittadini, tarantini, aprite gli occhi, perché le chiacchiere sono troppe.